Tra impegni istituzionali e motivi di salute, tante le assenze fra i banchi della maggioranza in Consiglio regionale, ma il centrodestra è riuscito comunque a respingere la contestazione di illegittimità alla nomina del direttore del COSIB del Re, chiesta con una mozione a firma fra gli altri di Massimo Romano e Vittorino Facciolla. Dopo il match dialettico fra quest'ultimo e Roberto Di Pardo, ex sindaco di Petacciato ed ex presidente del Consorzio Industriale, la compattezza è stata ritrovata col voto su un documento che chiede al governatore di esprimersi sul mantenimento del pacchetto di maggioranza delle azioni di poste in capo allo Stato. Ma sono i temi politici puri a imporsi nei capannelli di Palazzo Daimmo, le amministrative in arrivo, con l'ennesima richiesta di chiarimenti al PD da parte del capogruppo 5 Stelle Andrea Greco, dopo le provinciali vinte dal centrodestra a Isernia con l'apporto decisivo di esponenti dell'amministrazione di centrosinistra di Agnone. La domanda va direttamente al PD, perché ovviamente queste cose non possono accettarsi, non si può accettare che un'amministrazione per la quale si è brindato, il centrosinistra ha brindato per l'elezione del sindaco Saia, poi appoggi, per esempio, Manolo Sacco, coordinatore provinciale di Forza Italia, uomo vicinissimo all'assessore Andrea Di Lucente. A tutto questo io non ci sto, soprattutto in vista delle elezioni amministrative prossime che ci sono. I percorsi comuni bisogna farli nel momento in cui c'è comunione di intenti, e la comunione di intenti deve esserci su tutto il territorio regionale, non può esserci a macchia di leopardo. E sul fronte centrodestra, in attesa che Roma assegni la casella Campobasso a una delle forze della coalizione, il nome dell'assessore regionale al bilancio Gianluca Cefaratti, in quota Lega, da più parti ritenuto in pole position, onorato. Anche se vorrei continuare il lavoro che sto facendo in giunta, ha detto, assicurando poi decideremo insieme alla coalizione, al presidente Roberti. Ho avuto una delega importante, anzi una serie di delega importanti, lo scorso luglio al presidente Roberti, e sto lavorando nell'interesse dei cittadini molisani, anche i campobassani chiaramente, perché in questo momento quello che mi appassiona e quello per il quale sto lavorando sono le deleghe, in particolar modo il bilancio, le politiche sociali e il lavoro. Facciamo lavorare i coordinatori e i segretari di partito, faranno le scelte migliori per Campobasso e Termoli. Io ho detto perché ritengo che in politica non si debba dire mai di no. Se le valutazioni saranno quelle vedremo cosa succederà. Chiaramente ci deve essere una maggioranza di centrodestra regionale, il presidente Roberti, che dovranno assentire eventuali operazioni. Se dovesse però decidere tutti insieme, anche la giunta regionale, che è importante anche spendere un nome forte dell'esecutivo per provare a riprendere il capologo di regione, lei non direbbe di no. Guardi, ma io devo glissare necessariamente rispetto alla domanda. Ci sono tanti altri nomi altrettanto validi e forse anche più validi del mio. Vediamo cosa succede. Io confermo, sarei stupido a non dire che la questione mi possa anche onorare, perché dopo tanti anni di carriera vissuta, credo che se qualcuno fa il tuo nome, forse anche il frutto di 25 anni di amministrazione, probabilmente a questo punto ritengo di buona amministrazione.